La decisione non dipende da me, ma metterà una buona parola per il fratto. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. Senti, alcuni di questi... Gli uomini hanno lavorato armi per che la criminalità gli concedesse una promozione. Devi avere pazienza, non è solo una questione di credito. C'è una specie di giuramento e poi la cerimonia. Ha detto che presto lo scoprirò. Dovrebbero iniziare a breve. Hanno inviato l'apprezzatura necessaria a meno di un'ora parte. Dana è già lì. È convinta che dentro ci sia la placa? Pensavo che la scopla di condizioni non l'avesse trovato. Uno dei prigionieri ha mostrato un passaggio segreto. Sì, c'è una serie di problemi. Spero sia la volta. Sì, c'è una serie di problemi. Sì, sì, sì. 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 La decisione non dipende da noi, ma metterà una buona parola per il tratto. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. Tutto l'ora? Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato anni prima che la Trinità gli concedesse una promozione. Devi avere pazienza. Nemi compistato! Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato. Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato.